il testo è tratto dal libro quaderni dal 1945 al 1950 di maria valtorta edito dal centro editoriale valtortiano 20 maggio 1949 mi dice il signore mentre io penso a tutt'altro che a cose mistiche e lavoro d'ago riparando biancherie di casa la mia sindone o maria per chi sa vedere è non soltanto testimonianza che io sono veramente morto e sono risorto ma anche testimonia di come fui concepito e nacqui non secondo le leggi dell'umanità è quindi conferma alle verità che la religione mia insegna il mio concepimento per opera di spirito santo la divina maternità di maria la sua verginità perpetua la mia passione e morte la mia risurrezione gloriosa ma ciò è conferma a chi nella luce di dio è dato di vedere